l'aperitivo nel cuore invitati siamo tutti invitati dalla rete in questo caso dalla persona di Mauro Tomasini ciao Mauro buongiorno ciao Gabri buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Romiti che bella questa iniziativa aspettiamo l'aperitivo offerto da Bicicli di Trento avremo modo di di raccontare cosa facciamo e soprattutto la possibilità di di poter entrare in un progetto che veramente molto particolare che questa cosa è la bolletta del cuore c'è una bolletta con trenta che ti permette di risparmiare veramente sulla bolletta in modo certificato lo vedi sulla bolletta avere energia verde certificata quindi rispettare l'ambiente ma soprattutto avere la possibilità di aiutare i progetti sociali della rete tra l'altro in questa bella iniziativa non siete soli perché avete la collaborazione di realtà importanti forse a volta del vicigrile è venuto Maurizio Buscaglia che ha detto cose importanti sulla rete e non solo ciao sono Maurizio Buscaglia il coce della Pida Basket voglio parlare della bolletta del cuore della rete perché è un'iniziativa fantastica unica in Italia che sta dando dei ritorni incredibili vive di comunità vive di sentirsi partecipi di qualcosa di veramente fantastico che la rete sta facendo per cui aderite pensando sia al risparmio perché c'è ma pensate anche al grande aiuto che una piccola goccia fa per far diventare il lago e il mare sempre più grande aderite alla bolletta del cuore per saperne di più l'appuntamento è oggi alle 18.30 presso il bicicletto di Trento Sud con la rete con Anquilla Basket SPA No Profit e insomma tutti gli amici che vogliono partecipare grazie Mauro e come sempre un grande abbraccio e un bocca al lupo per questo progetto grazie e grazie a Radolo Miti per l'aiuto nel promuovere questa iniziativa ciao caro ciao ciao grazie un saluto a tutti grazie